un'altra attività che proponiamo qui al centro sempre legata allo yoga non praticato in unità cioè per tutti è l'acroyoga da poco è partito un corso l'acroyoga si pratica sempre in gruppo ovviamente si formano delle coppie di persone dove una persona fa da base quindi sta a terra e l'altra persona con una serie di esercizi prova a prova tra virgolette a volare la relazione che si crea in questo tipo di lavoro è anche una relazione di fiducia non è solo diciamo divertimento o posizioni particolari in volo ma anche proprio fiducia nel relazionarsi all'altro fidarsi dell'altro